E vedo il generale, c'è il generale lì in mezzo Sì lo vedo È dietro gli alberi, l'ho visto anch'io Ragazzi, sta buttando delle cose, ci sono delle creature Oh mio Dio, attenzione Attenzione, ci sono delle creature grosse, tipo scheletri, ma enormi, mutanti Attenti, ne vediamo anche noi Ragazzi, nascondetevi, ok? Nascondetevi dietro gli alberi Si stiamo sparando Immobilizzatevi da qualche parte in modo che siate coperti Non lo so, Anna, sparagli però, sparagli, ok? Sparagli, sono più di uno Sono tantissimi, guarda Lo so, lo vedo, lo vedo che sono tanti Spara, Anna, spara, spara Lai, attenzione, guarda, ne sta arrivando un altro di quei cosi Lo vedo, è lontano, non ti avvicinare, Anna Attenta, non sappiamo neanche... È spazzissimo Lo so, lo vedo, lo vedo che sono tanti Spara, Anna, spara, spara Lai, attenzione, guarda... Lo so, lo so, allontanati, non sappiamo neanche che cosa sono L'unica cosa che sappiamo è che sono degli scheletri giganti e che esplodono Alex, dove siete? Stiamo arrivando da voi, stiamo arrivando da voi Avvicinatevi, ci sono un sacco di infetti lì in mezzo Esplosioni È l'attacco È l'attacco di cui vi parlavo Dov'è Giorgio, Alex? Dove l'hai lasciato? Non mi fido Ci sarà dietro di me Vieni verso di noi, Giorgio, vieni qua Nasconditi dietro gli alberi Non voglio che nessuno muoia, ok? Potrebbe arrivarne un altro Anche perché se noi moriamo Fidatevi che lui ci distrugge all'accampamento In men che non si dica Ci metterà un secondo con sti cosi